Un saluto dal Tg della mobilità, sono in corso lavori di manutenzione ordinaria nella galleria Fleming sulla tangenziale est nel tunnel in direzione Tordiquinto Salaria dove al momento si viaggia su carreggiata ridotta. I lavori vengono effettuati in orario notturno, sino a lunedì 6 febbraio la galleria nella sola direzione Tordiquinto Salaria chiuderà il transito tutte le notti dalle 22 alle 6 del mattino successivo. Di giorno sino al termine dei lavori resterà il ristringimento di carreggiata, nessuna modifica alla viabilità invece nell'altro tunnel della galleria in direzione Corso Francia. E' tutto, appuntamento alla prossima edizione. E' tutto, appuntamento alla prossima.